se pensi di fare spettacolo oppure forse forse ti stai rendendo conto che la gente magari sta cambiando idea su di te e quindi vuoi cercare di deviare il discorso perché può essere anche quello però la risposta la sei dando tu cioè tu stessa con questo posto hai fatto capire esattamente chi sei devi di minacce fai solo minacce e hai presi di potere che non ti appartengono perché per me non sei nessuno non lo sarai mai per me per gli altri non lo so per chi ti retta il culo non lo so nemmeno ma per me personalmente non sei nessuno e non lo sarai mai comunque se tu vuoi andare dall'avvocato per me ci possiamo andare anche insieme vengo fino a Roma e ci andiamo e poi vediamo nella bilancia mettiamo tutto nella bilancia vediamo chi ne esce fuori e come ne usciamo fuori detto ciò io ti auguro una bellissima vacanza spero che mi penserai sempre e comunque e se vorrei rispondermi magari fammi una telefonata che l'apprezzo meglio da persone più matura un bacione a tutti grazie grazie grazie